E sarà una grande festa della musica, della gioia, dell'amicizia e dello stare insieme. 2 settembre, Bellari e Gea Marina, in provincia di Rimini, ci sarà la Joy Music Fest. Siamo collegati questa mattina, per me è un grande piacere, una gioia immensa, con Riccardo Rossi, batterista dei The Sun, dai quali nasce questa festa della musica. Buongiorno Riccardo, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno a te cara, che felicità essere qui con te e con voi. Grazie, grazie. Che felicità sarà essere con tutti quanti i colori quali parteciperanno appunto a Bellari e Gea Marina il 2 settembre a Joy Music Fest. Riccardo, come nasce questo evento? Quando e come avete sentito l'esigenza di questa grande festa della musica e dell'amicizia? Era tanto tempo che volevamo collaborare tutti quanti assieme, noi artisti di rock cristiano, di musica cristiana e finalmente durante le nostre turnie abbiamo deciso, ok, adesso ci fermiamo un secondo e cerchiamo di organizzare questa bellissima festa che è una festa di condivisione e di gioia. ce lo chiede proprio il Vangelo, stare insieme è gioia, dobbiamo portare la gioia e tutti noi insieme abbiamo voluto creare questa cosa, l'idea partita appunto da Officina del Sole e dopo è da noi nella persona di Francesco e vedrete e sentirete che sarà veramente una gioia. Ecco, non sarete i soli ad esibirvi e a condividere questa giornata di musica ma ci saranno anche tanti altri artisti di musica cristiana, penso ai nostri amici di Cantiere Kairos, penso a Deborah Vezzani e a tanti altri. Sì, ci saranno Genverde, ci saranno Ireale, ci sarà Angelo Maugeri, ci sarà Dario Urbano, Cermig, collaboratore del suono e Nuovi Orizzonti con Ilaria Tede e Elena Martelli. Ci sarà anche Don Alberto Ravagnani, i ragazzi della fraternità, quindi musica ma anche momenti di condivisione, ci saranno anche tante attività. Sì, la cosa bella appunto è che abbiamo questo bellissimo rapporto con i ragazzi di fraternità e con Don Alberto Ravagnani, loro arriveranno freschi freschi dal loro incontro a Loreto e saranno carichissimi con una voglia incredibile di condivisione e questo è meraviglioso perché non ci sarà appunto solo musica ma ci sarà anche condivisione, parole, cuore, amicizia, fraternità. Senti Riccardo, se una famiglia vuole venire con i bambini può farlo? Ci saranno spazi dedicati a loro? Assolutamente sì, sul sito joyfest.it troverete tutto il programma e anche la mappa, la cartina dove ci saranno appunto disegnati i vari stand, tra i quali c'è anche l'area bimbi con un servizio babysitting. Che meraviglia, quindi davvero una giornata di festa, un'occasione unica, immagino che sia la prima in Italia per ritrovarvi tutti insieme per un'intera giornata, l'insegna appunto della musica, delle testimonianze, ci sarà anche la celebrazione della messa, ci saranno stand gastronomici e appunto come dicevi tu attività di supporto e babysitting per le famiglie con i bambini che sono sempre le benvenute. Riccardo, prima poi di ricordare il sito internet e che quindi immagino ci sia ancora possibilità per iscriversi, per acquistare il biglietto per Joy Music Fest 2 settembre Bellari e Giamarina in provincia di Rimini, voi siete rientrati da poco insieme a tutto il gruppo dalla vostra quarta GMG, quindi Lisbona 2023, dalla tua quinta GMG. Raccontaci qualcosa, com'è andato l'impatto con i giovani dopo anche potremmo dire diversi anni di stop? Allora è stata una GMG molto particolare appunto perché si arrivava da due anni di stop, ci veniva dalla GMG di Panama dove abbiamo appunto partecipato anche noi e lì abbiamo visto una GMG molto particolare perché c'era il Centro America e l'America del Sud praticamente, quindi una GMG molto colorata, molto folkloristica, piena di gioia e di sorrisi. Quest'anno in Portogallo e Lisbona è stata comunque una GMG molto colorata, molto festosa e molto sorridente, molto felice. Il fatto che sia stata fatta in Europa ha fatto sì che ci siano stati molti più italiani e molti più europei appunto rispetto a Panama. Dico sempre che per me la GMG è conversione, è rinnovo, è rinnovo di fede perché trovo conferme a vedere tutti quei giovani felici, festosi che amano il Signore e non hanno paura di condividere questo amore per Cristo. Che bello, vi abbiamo visto anche sui vostri social, vi abbiamo seguito per chi è rimasto qui in Italia. Però prima mi dicevi che la tua prima GMG è stata attorvergata a Roma, quindi qualche annetto fa, Riccardo. Sì, con Giovanni Paolo II è stato bellissimo. Eravamo io e Matteo, il bassista, Lemma ed è stata una cosa incredibile perché la cosa che mi ricordo di quel GMG è due milioni di persone che stanno in silenzio e pregano. E quel silenzio era un silenzio benedetto perché riusciva a farti mettere in contatto veramente con Dio ed è stato meraviglioso davvero. Immagino che tu racchiuda davvero quel ricordo, ma un po' come tutti quelli che hanno partecipato attorvergata, c'è proprio un pezzo di cuore che racchiude tutti quei ricordi, quei visi e quell'esperienza. I D'SAN hanno festeggiato, avete festeggiato e celebrato i vostri primi 25 anni di carriera. Riccardo, se ti guardi indietro, che cosa vedi e se vi guardate avanti, che cosa c'è all'orizzonte dei D'SAN? Innanzitutto grazie per aver detto i primi 25 anni, questo significa che ne avremo altri 25 insieme e questo è meraviglioso. Assolutamente sì. Se guardo indietro vedo dei ragazzi che avevano tantissima voglia di vivere, di suonare, di portare avanti il loro sogno. E la cosa meravigliosa è che se guardo avanti adesso vedo quattro uomini, diciamo così, che sono un po' più cresciuti, ma che hanno voglia di vivere, ancora di innamorarsi della vita e della musica e portarla avanti. E hanno però una conferma in più, ossia Gesù Cristo con loro. E questo cambia tutto perché Gesù fa veramente collante tra i rapporti, tra gli incontri e gli rende pericolo di maiuscola. Che bello. Noi abbiamo avuto modo, nei mesi passati, anche di ascoltare la testimonianza molto bella, forte e incredibile di Francesco Lorenzi che è il leader dei D'SAN, la voce. E potremmo dire è quello il quale vi ha in qualche modo portato in questa, traghettato in questa fantastica avventura dei D'SAN. Anche se poi, insomma, l'artefice primo è sempre, è stato lui, è stato il Signore. Mi piace anche il fatto che tu abbia detto che la GMG è conversione. Chissà quanti giovani, ecco, magari a Lisbona o anche nelle prossime GMG o in quelle passate, hanno trovato un modo per andare sulla strada, quella bella, quella giusta. Riccardo, in conclusione ricordiamo ancora l'appuntamento. Il prossimo 2 settembre è un sabato, quindi non ci sono scuse per non partecipare. All'arena Becky Bay, quindi davanti al mare, a Bellari e Giamarina, Joy Music Fest, grande festa della musica e dell'amicizia. Lancia tu un invito a colori quali magari ci stanno ascoltando e sono ancora indecisi. Che faccio? Vado? Non vado? Prenoto? Non prenoto? Per la prima volta troverete tutte le band di musica cristiana e italiana insieme che condivideranno lo stesso palco e questo per noi musicisti è meraviglioso. Vivremo veramente una gioia piena, una gioia che va condivisa e quindi vi aspettiamo numerosissimi e soprattutto con una voglia incredibile di condividere questo concerto. E anche di cantare, di stare insieme, di regalare sorrisi. Grazie. Ricordo nuovamente il sito joymusicfest.it ma digitando, ecco vediamo anche l'immagine che prontamente la nostra regia ci richiama, digitandolo su un qualsiasi motore di ricerca o sui social troverete come fare per partecipare. Quindi davvero grazie a Riccardo per essere stato con noi, Riccardo Rossi, batterista dei The Sun. Saluti a tutto il gruppo e noi purtroppo non ci saremo perché dobbiamo rimanere qui, sai, in tv. Però sicuramente vi seguiremo quel giorno, seguiremo i vostri social e perché no, poi ci risentiremo per sapere com'è andata, per fare un po' un bilancio di questa prima festa. Speriamo possano essercene tante altre così, Riccardo. Ce ne saranno tantissime, veramente ci sentiamo presto. Grazie, grazie, grazie ancora Riccardo Rossi, batterista dei The Sun, per essere stato con noi. Noi ci fermiamo, brevissima pausa e poi di nuovo insieme.